Prima di immergerci nel cuore di questa emozionante vicenda, desidero rivolgervi un invito speciale. Iscrivetevi al nostro canale e attivate la campanella delle notifiche. È un gesto apparentemente piccolo, ma per noi è di enorme importanza. Grazie per il vostro supporto. La tensione è palpabile nella sala della produzione di Amici 23, dove il finalista Mida è stato convocato d'urgenza. Il countdown verso la finale è già iniziato, e Mida, dopo un percorso ricco di sfide e successi, è emerso come uno dei favoriti per la vittoria finale. Il suo talento musicale e la sua capacità di emozionare hanno conquistato i cuori dei fan, che lo sostengono con entusiasmo e ammirazione. Alcuni lo definiscono un modello di determinazione e coraggio, un esempio vivente di come perseveranza e passione possano portare alla realizzazione dei sogni. Inoltre, Mida è riconosciuto come uno dei migliori autori di brani inediti di quest'anno, un talento che promette di continuare a brillare anche al di fuori del contest. La sorpresa in sala arriva con un tocco di commozione. Mida riceve un video messaggio dal padre, che esprime tutto il suo orgoglio e affetto per il figlio. Il padre sottolinea il comportamento rispettoso e le qualità umane di Mida, ribadendo quanto sia fiero dei suoi successi. Ma la sorpresa più grande arriva durante una serata del programma, quando Mida, mentre si esibisce sul palco, riceve un messaggio inaspettato dalla madre. La madre appare improvvisamente, e tra i due scoppia un abbraccio commovente, che racchiude anni di amore e sostegno reciproco. E voi, cari spettatori, cosa ne pensate di questo momento toccante? Condividete le vostre opinioni nei commenti, e non dimenticatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche per non perdere altre notizie ed aggiornamenti su questa straordinaria avventura di Amici 23.